Per quanto riguarda questo documento di 70 senatori che ha chiesto basta passi falsi, ecco voi cosa ne pensate? Non c'è dubbio che dobbiamo smetterla di fare autogol, io sono anche dell'idea che dovremmo smetterla di fare documenti e chiarire fino in fondo qual è il nostro programma, qual è la nostra identità, ma smetterla soprattutto di occuparci dei problemi giudiziali di Silvio Berlusconi. Noi siamo chiamati a fare altro, siamo chiamati a dare le risposte ai cittadini, occupiamoci di quello che ci chiedono i nostri elettori.